ciao a tutti eccomi qui con la piccola carta degli angeli le carte ascolta agli angeli che sono delle piccole carte con preziosi consigli e il consiglio di oggi è questo non lasciare le cose netta in realtà a molti di noi alla maggior parte di noi capita di iniziare un progetto di fare qualcosa di pensarci poi di lasciarlo lì lasciarlo lì ci possono essere tanti motivi perché c'è venuto in mente un'altra idea perché non abbiamo avuto tempo perché in qualche modo ci siamo impigriti ecco il consiglio dell'angelo è molto importante se il progetto anche una piccola cosa anche un piccolo compito anche dei compiti quotidiani che non ci piacciono non prende forma e decidiamo di lasciarlo allora dobbiamo togliere energia a questo progetto lasciare spazio per il nuovo quindi eventualmente se pensate di non poterlo portare a termine potete portare il vostro pensiero nei confronti di quel progetto ringraziare l'universo per le idee che vi ha dato e lasciarla andare così lascerete spazio per il nuovo al contrario se non avete finito quello che avete iniziato andate avanti e finitelo per oggi ho finito vi mando tanta luce vi auguro di chiudere i progetti che per voi sono importanti e lasciare andare quello che non serve se questo video vi è piaciuto per favore mettete un like oppure condividetelo con i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al mio canale così potremo mantenere i contatti ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti